Ciao a tutti, oggi siamo qui con un ennesimo caso studio di successo, sono felicissimo di avere qui con me Marco, che è un pioniere del low content ovviamente, e che è qui a raccontarci la sua bella storia di successo, perché nonostante agosto è una bassa stagione, invece lui ci ha fatto vedere che ha anticipato quest'anno il Q4, ottenendo un risultato veramente molto interessante, quindi innanzitutto Marco benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille Lorenzo. Allora, raccontami innanzitutto un pochino di te, chi sei, come hai scoperto il self-publishing, come ti sei approcciato a pionieri, raccontaci un po' la tua storia che ti ha portato fino qui. Allora, io ho scoperto esattamente ormai più di un anno fa questo business, grazie a te Lorenzo, tramite TikTok, quindi ho visto un video, mi ha incuriosito, mi ricordo che il video, diciamo, catturabile attenzione con vuoi guadagnare questa somma entro l'anno? E ho detto sì, perché no? Allora mi sono incuriosito e allora, niente, ho propondito la cosa. Non ho acquistato subito la tua masterclass, ho provato a giocare un pochetto da solo e già all'inizio ti contattavo un pochino per chiederti qualche aiuto, perché, insomma, non ci capivo niente, fino a quando ho detto basta, voglio saperne di più e allora ho investito sulla tua masterclass. E in questo anno, diciamo, per me è stato un anno di esperimento, perché alla fine per me era tutto nuovo, ma qualsiasi cosa, cioè ho scoperto tantissime cose, tra, diciamo, l'utilizzo di alcuni software. Io, ad esempio, fino appunto un anno fa non avevo mai usato, diciamo, un software di design, quindi un semplice canva, ad esempio, per me era una cosa ignota. Quindi mi sono messo in gioco, ho studiato, mi sono applicato, ho avuto tante delusioni, però non mi sono mai reso. Quindi a furia di continuare, continuare, sbagliare, tanto, ho sbagliato davvero tanto, tanto, ascoltando, seguendo tutte le live e tutto, ho imparato e che dire, sono anche un po' della filosofia che con l'impegno, con la costanza, alla fine il risultato arriva. E quindi arrivò questo agosto, anzi, questo agosto, e mi ha portato un buonissimo risultato. Allora, a furia di sbagliare, imparare, però è star lì e non perdere la speranza, che è successo? Che è arrivato questo libro. Questo libro racconta un po' la storia, cioè quando l'hai pensato, quando l'hai fatto. Ovviamente noi non diremo qual è il tuo libro, per rispetto e la privacy, appunto, dei libri di tutti i casi studio, però vorrei parlare un po', no, di tutto quello che ti ha portato a questo successo e poi facciamo vedere anche, ovviamente, lo schermo per far vedere qual è il risultato. Però raccontami prima questo libro, quando lo hai pensato, come più o meno l'hai realizzato, perché so che ovviamente sei stato assistito anche dai professionisti meravigliosi di Pionieri del Low Content, che sono bravissimi, e ti hanno dato una mano. Esatto, esatto. Allora, quello che posso dire di questo libro è che l'idea di questo libro, diciamo, mi è venuta in mente mesi fa, perché partecipai a un corso, un corso mio, posso dirlo, di apprendimento, ecco, quindi tecniche di memorizzazione veloce e cose del genere, finché in quel corso mi è arrivata questa brillante idea di, diciamo, prendere una tecnica e associarla al mio lavoro. Poi, giustamente come tu insegni anche nella Masterclass, ho fatto una ricerca di mercato in Amazon e ho visto che è un prodotto che non esiste, sarebbe stato quindi l'unico del suo genere, allora ci ho visto l'opportunità. Quindi mi sono messo sotto, mi sono proprio impegnato tantissimo e ho studiato ancora nuovamente un nuovo software, che non posso dire più di così, e niente, quindi ho fatto questo libro. Come hai detto te, io poi mi sono rivolto ad un offensisti della Masterclass, quindi mi sono rivolto... Hai utilizzato Andrea per commissionare la cover e Isabella, ovviamente, che si occupa... Perfetto, perfetto, ok, allora, esatto, loro due, esatto, sì. Senti, quando l'hai pubblicato questo libro? L'ho pubblicato a inizio agosto. Senti, quindi, questo è il primo libro che ti sta dando risultati, diciamo, no? Quindi adesso facciamo vedere la dashboard e possiamo dire che è frutto di questo libro qui. Sì, allora, condivido... Vai, facci vedere la dashboard, va, così, le persone curiose... Ok, dammi conferma Lorenzo se si vede. Ok, si vede, grazie. Ti chiedo solo di fare un piccolo refresh per tutti gli scettici che dicono che poi si mettono gli screenshot, quindi adesso facciamo vedere. Trattasi di vera dashboard, eccoci qua che sta refreshando, eccola qua. Perfetto, quindi, beh, non male via, pensavo peggio. Assolutamente, fino a pochi mesi fa una roba del genere soltanto di notte la vedevo nei miei sogni. Sì, veramente complimenti. No, sei stato bravo, il merito è oggettivamente il tuo. Io sono tanto orgoglioso quando qualcuna delle persone che seguo ottiene questi risultati degni di nota, mi riempie veramente tanto di orgoglio, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Siete bravi, quindi questo... Perché voglio fare questo discorso? E vorrei che tu fossi testimone di questo discorso, perché lo facevo poco fa proprio parlando al telefono con una persona che voleva delle informazioni sul self-publishing. Questo business, in questo momento storico, è un business non facile per chi inizia, perché è un business un po' lento. Ha due principali criticità. Il primo, appunto, è che nella stragrande maggioranza dei casi non ti fa vedere risultati nell'immediato. Questo bisogna dirlo. No, assolutamente. La seconda criticità è quella che tu all'inizio ti vai a, diciamo, a confrontare con una competizione di persone che iniziano come te, che è molto alta. Ma è anche vero che il 90% di queste persone, proprio perché magari non fanno una formazione adeguata, perché si improvvisano e non la fanno proprio, o perché vedono che non ottengono risultati nell'immediato, molla. E se tu sei bravo, come tu sei stato a non mollare, ecco che poi i risultati arrivano. L'impegno, la costanza, alla fine premiamo. I risultati arrivano. Senti, posso chiederti solamente di cliccare su visualizza ordini? Noi possiamo vedere questo, praticamente tu hai 69 libri pubblicati, che molti di questi saranno dei test e quant'altro, ma tutto quello che sta arrivando, tra l'altro hai totalizzato più vendite mentre stavamo facendo questa intervista, è aumentata la dashboard, e viene da questo libro qui. Veramente bravo. Vedo che ci sono stati due spike interessanti di utilità, però ci piacciono. Complimenti. Senti, io ti chiederei di togliere la condivisione, così poi faccio un altro paio di domande, e ti voglio chiedere, com'è al di là ovviamente di questa soddisfazione incredibile, com'è la tua esperienza all'interno di Pioniere dello Content, perché lo chiedo a tutti sempre, perché mi interessa tanto, quindi voglio sapere come ti trovi, anche perché hai fatto un anno con pochi risultati. Sì, sì, certo. Allora, innanzitutto, la Masterclass è pighissima, è completa, e ovviamente per approcciarsi a questo business, devi conoscere tante cose che cercandole così in giro, in vari TikTok, in vari Instagram così, non trovi, quindi è molto approfondita, è impegnativa, e beh, ci vuole dello studio, ma comunque è fatta da Dio benissimo, e la consiglio pienamente. Il cavallo di battaglia della Masterclass è appunto il canale Telegram, perché Pioniere dello Content la vedo come un'enorme panuglia, dove ci si aiuta a vicenda, ed è una cosa figissima. Io diciamo che spesso sono stato anche un po' rompiscatole, diciamo così, nel canale Telegram, chiedevo mille domande, in mille topics differenti, ma perché ovviamente da parte mia c'è la voglia di imparare, ma è lì, ho sempre trovato, diciamo, un aiuto da parte di qualcuno, da chi è sempre stato più esperto di me, e per me è uno strumento davvero potentissimo, assolutamente. A noi ci piacciono i rompiscatoli, nel senso che essendo la nostra, forse l'unica vera community, in questo senso, nell'ambito self-publishing, perché io, che da self-publisher sono stato in tante altre, diciamo realtà, percorsi di formazione e quant'altro, ho voluto costruire un qualcosa che non ho trovato da altre parti, cioè la community vera e propria, noi siamo felici, siamo felici perché abbiamo fondato tutto il nostro progetto proprio sull'aspetto umano, quindi sono d'accordo con te che questo aspetto qui è fondamentale. Sono veramente felice che tu ti stia trovando bene, adesso ovviamente ti faccio la domanda più scomola di tutte, che non è scomola ovviamente, però adesso qui dobbiamo scalare progetti futuri. Dico solo una parola, collane. Collane, perfetto. Quindi avremo tante perle al collo. Marco, è stato veramente un piacere, guarda, intervistarti perché io ovviamente di te mi ricordo da già prima che tu entrassi, è stato un piacere intervistarti, è stato un piacere condividere questo successo con te, e mi auguro tra qualche mese di registrare una nuova intervista con te dove avremo magari raddoppiato o triplicato questa dashboard, perché no? Mamma mia, lo spero, lo spero davvero, guarda, speriamo, speriamo di vederci ancora qui, dai. Assolutamente. Grazie mille a te, a tutti. Ok. Grazie a te. Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ciao. A presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.